Nessuna insegna, nessuna pubblicità in vista, il centro massaggi a luci rosse si trovava infatti dietro la porta di quello che apparentemente era un anonimo appartamento al secondo piano di un edificio di via dei cantieri, ma che nella torre a mare, così è conosciuto in zona l'imponente palazzo che guarda il golfo, ci fosse una casa d'appuntamenti, era una voce piuttosto diffusa e chi la frequentava le informazioni le aveva trovate in altro modo, sul web soprattutto, visto che il centro massaggi era pubblicizzato come spesso accade su social network e siti internet e poi grazie all'infallibile sistema del passaparola. In quelle stanze si prostituivano tre donne, tutte di mezza età, casalinghe e madre di famiglia. Le hanno sorprese in compagnia dei loro clienti gli agenti della polizia che ieri hanno fatto irruzione nell'appartamento. La clientela della casa d'appuntamenti era ampia, operai, professionisti, studenti, impiegati. Le tariffe per gli incontri andavano dai 30 agli 80 euro, cifre che per oltre la metà finivano nelle tasche della tenutaria, una donna che è stata denunciata per sfruttamento della prostituzione. Un'operazione, quella di ieri, che è solo l'ultima di una lunga serie, sono numerosi infatti i centri massaggi di facciata scoperti nei mesi scorsi a Palermo, appena qualche tempo fa il blitz in cui rimase coinvolta anche una vigilessa, ma che rivela anche un'altra faccia della crisi. Le tre donne sorprese ieri hanno riferito infatti agli agenti di essere state spinte dal bisogno. Una delle tre era proprietaria di un asilo nido privato che però aveva dovuto chiudere per difficoltà economiche. Anche le altre due donne avevano perso il lavoro senza trovarne un altro perché considerate in età avanzata. Di qui la scelta di prostituirsi per tirare avanti e portare qualcosa a casa.